Signori benvenuti in questo video molto breve, molto poco editato e come potete vedere dall'illuminazione di pessima qualità ma nonostante queste cose è molto importante perché ho dovuto parlarvi di un paio di cose che sono impronti durante il mese di dicembre per annunciarvi diverse cose che ci tengo molto che le sto organizzando e voglio che voi sappiate della loro esistenza e vi teniate i pomeriggi ad essere libere la maggior parte di queste cose sono ancora adatta da designarsi precisa ma intanto io vi avviso perché in questo mese di dicembre innanzitutto ci sarà un piccolo regalo di Natale per uno di voi come avete visto dal titolo e si tratta del contest mensile su Twitch ovvero la persona che avrà più punti alla fine del mese di Twitch vincerà un paio di calzetti a sua scelta da Toppers sapete che Toppers è il sito con cui collaboro che vendono merchandise ufficiale della Michelinness tanta roba se vi serve andate a dare un'occhiata per un regalo di Natale su link in descrizione per fare questi punti per arrivare primo ovviamente dovete essere molto presenti nelle live di dicembre e oltretutto se volete guadagnare il doppio dei punti vi converrà a fare il sub gratuito con Amazon Premium oppure a pagamento ci saranno delle bet per scommettere i propri punti e molte volte hanno vinto anche quelli senza sub facendo il botto nelle bet quindi assolutamente non è obbligatorio fare il sub per vincere il premio se poi vi fa piacere supportare il canale con donazioni o bizzalt ovviamente ci sono dei rewards in termini di punti anche per questa cosa ma questo è secondario diciamo così la cosa principale è essere in live e perché dovete essere in live? Perché in questo dicembre faremo delle cose molto fighe il Trevor tornerà giù nella seconda metà da Roma dovrei dire su in realtà da Roma però ok quindi faremo sicuramente qualche live in sua compagnia qualche live con il terzetto al completo un rebuilding con il trio magari dei triangolari magari un weekly NBA come abbiamo fatto con Taddy la scorsa settimana con loro verso fine dicembre per il secondo mese full diciamo così di NBA a proposito di Taddy ora che magari ha preso NBA ci sarebbe fare un qualche sfida di rebuilding anche lui questo dobbiamo ancora decidere le butto lì assieme a voi le idee per cose che potrebbero avvenire durante dicembre rebuilding miei partite da MyCareer Pokémon Star Wars c'è di tutto e di più ma il fiore all'occhiello del mese sarà ovviamente la live di Natale ebbene sì perché lo sapete l'anno scorso l'abbiamo fatta mi sono ci siamo ci sono tutti ci siamo divertiti un botto quest'anno la voglio rifare e più in grande ovviamente il problema di non poter fare vedere le immagini rimane tale e quale quindi su questo vedrete me e gli ospiti che ci saranno se ci saranno spero proprio di sì devo quasi darvi la certezza ma direi di sì ma per il resto vorrei introdurre cose nuove come magari qualche scommessina su chi vince la partita o se qualcuno fa un carirai per scommettere dei sub che se io sbaglio la scommessa vi regalo dei sub in chat devo ancora pensarmela bene questa cosa ma ci sarà sicuramente per il gioco della partita io dirò secondo me chi vince e se non vince la squadra che ho scelto regalo un sub a caso in chat quindi a maggior ragione dovete esserci perché se siete in chat potete avere la possibilità di beccare un sub se perdo che non è detto ovviamente partiremo dalle 6 di sera poco prima magari giusto per salutarci farci gli auguri e spero a voi passiate non magari tutto il tempo un'oretta qui un'oretta là mezz'ora mezz'ora oppure se avete tempo tutta la sera fino alle 5 di mattina per farmi gli auguri farmi un saluto ditemi cosa vi hanno comprato cosa vi hanno regalato stiamo assieme geracchiamo un po' mangiamo assieme facciamo un po' di chiacchiere sulle NBA assieme abbiamo un bel po' di partite e in più ci sarebbe anche il derby di Bologna alle 8 e mezza la domenica la domenica la sera del 25 non è domenica quindi dovremmo cercare di organizzarsi anche su questo punto di vista da più fronti ma insomma vi farò sapere vi tengo aggiornati su Instagram ovviamente e altra novità rispetto all'anno scorso nell'intervalli nelle pause tra una partita e l'altra queste cose qui ci saranno delle sfide con qualche ospede ci sarà magari un rebuilding diviso in varie parti ci sarà magari un pack opening su NBA 2K ci sarà magari una partita della carriera una partita della primary nation faremo un po' di cose introdurremo anche un po' di gaming all'interno della live di Natale in maniera da non fare 7 ore la stessa cosa e neanche annoiarci nelle mezz'ore di pausa tra una partita e l'altra magari reatteremo a qualche video insomma abbiamo vari momenti book in cui si possono inserire queste attività se ne avete qualcuna consigliatemela ovviamente ma ciò che è importante 25 dicembre ore 18 sarò in live su Twitch vi aspetto assolutamente almeno tutti dovete passare a fare un saluto e un buon Natale al buon suite e tralasciando per un attimo Twitch un piccolo regalo di Natale anche se sono incredibilmente retardo che io voglio fare a voi è l'uscita dello speciale 20.000 iscritti non ha una data precisa ma uscirà entro fine anno sicuramente se riesco anche prima di Natale vediamo quello dipende ma insomma cambia poco entro fine anno sicuramente avrete lo speciale 20.000 iscritti e sta venendo fuori una bomba ne varrà la pena l'attesa ragazzi non preoccupatevi ne varrà la pena l'attesa sta venendo fuori una bomba quindi io direi che non mi resta che lasciarvi il link in descrizione come vi ho detto prima per Twitch, Toppers, Instagram e tutto il resto tra l'altro mi stavo dimenticando domenica c'è anche il continuo della carriera simulata di Zion che avrà altre puntate poi nel corso del mese e penso che ora di fine mese inizieremo anche quella di Gian Moranto Arjay Barrett in base a quale sarà la prossima e di conseguenza tutti i video su YouTube e bla 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 insomma avete capito c'è contenuto in arrivo interessante e se vi perdete un pezzo di live potete tranquillamente andare a rivedervela il giorno dopo o i giorni dopo che tanto rimane per un po' su Twitch senza alcun tipo di pensiero non si paga passate e fatemi un saluto vi aspetto boys ci vediamo nei prossimi giorni in live e nei nuovi video bella ciao 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 ciao